I vaccini anti-influenzali disponibili in Italia sono tutti vaccini inattivati, ovvero costituiti da virus uccisi, in particolar modo da parti del virus o addirittura da singole subunità, ovvero quelle porzioni del virus che sono in grado meglio di stimolare il nostro sistema immunitario a produrre anticorpi che ci proteggeranno dall'infezione. Di conseguenza abbiamo a disposizione dei vaccini caratterizzati da un elevato profilo di sicurezza. È vero anche che i vaccini anti-influenzali hanno alcune controindicazioni e alcune precauzioni devono essere comunque adottate, come per tutti gli altri vaccini. In particolar modo per il vaccino anti-influenzale è necessario considerare che non può essere somministrato ai bambini al di sotto dei sei mesi di età. Questo perché non esistono studi clinici che ne dimostrino l'efficacia in questi bambini più piccoli. Un altro elemento che bisogna considerare prima della vaccinazione e che può costituire controindicazione alla vaccinazione è la presenza di una precedente reazione allergica al vaccino anti-influenzale che può portare a un quadro grave di reazione allergica. In questo caso abbiamo un'indicazione di controindicazione alla vaccinazione. Come per tutti i vaccini, anche per il vaccino anti-influenzale, è necessario posticipare la vaccinazione, quindi in questo caso parliamo soltanto di una controindicazione temporanea, quando si ha la presenza di malattie di lieve o media entità, quindi presenza di febbre o malattie che possano in un qualche modo disturbare la vaccinazione stessa. Da un punto di vista di reazioni avverse alla vaccinazione, si possono registrare delle reazioni, nella maggior parte dei casi, di tipo locale, quindi che portano per esempio a dolore o a rossore a livello dell'area in cui viene effettuata l'iniezione del vaccino. In altri casi le reazioni possono essere di carattere sistemico. Questo significa la comparsa circa 6-12 ore dopo la vaccinazione di malessere o febbricola che solitamente scompare nell'arco di circa 12-24 ore.